buongiorno benvenuti in diretta per quelli che ce la fanno in diretta sia su facebook sia su youtube sia su instagram e questa diretta sulla zuppa di porro del 2 aprile del 2020 vediamo che cosa è successo sui giornali beh insomma prima di quello che è successo sui giornali e vi vorrei fare una piccola premessa che valga per tutti quanti quelli che ci ascoltano e cioè che un paese libero rispetto a un paese non libero si distingue per una caratteristica e cioè che ovviamente noi siamo agli arresti domiciliari questa è una cosa del tutto evidente che continueranno anche fino a dopo pasqua però dobbiamo cercare di coccolare ve lo chiedo con come posso dire con rigore ma anche con speranza dobbiamo cercare di coccolare le idee diverse dalle nostre la libertà di stampa la libertà di parola ovviamente dobbiamo essere tolleranti nei confronti di quelli che la pensano diametralmente in maniera diversa da noi ci può essere qualcuno che critichi i virologi ci può essere qualcuno che critichi il governo c'è pure essere qualcuno che dica che sono i migliori del mondo scusate questa lezioncina ma perché mi ha molto stupito anzi per niente perché in italia piena di fascistelli che magari fossero fascisti fascistelli uno di questi si chiama diego petrucci se fosse un fascistello che trovi qua dal norcinaio andrebbe anche bene quanti ne ho visti nella mia vita purtroppo è stato eletto ed è diventato sindaco di abetone questo fascistello fa un post su facebook in cui dice porro andrebbe arrestato porro sarei io e l'arresto secondo lui in questo momento io devo essere arrestato per quello che dico allora questi fascistelli purtroppo ci sono sia sinistra sia destra come questo diego petrucci cioè io mi vergogno di questa destra toc toc giorgia meloni anche tu sei d'accordo che io devo essere arrestato no tanto per sapere perché probabilmente anche giorgia meloni pensa che io siccome non la penso come lei devo essere arrestato e allora forse devono essere arrestati quando non la pensano come lei anche tante altre persone ma comunque lasciamo perdere se questi fascistelli pensano che devo essere arrestato è in realtà regiscono molto male a un problema del giornale unico del virus che io ho raccontato in questi giorni caro diego petrucci che forse la tua idea no da fascistello con l'olio di ricino me lo immagino sto fascistello è un po' diversa rispetto a quella per esempio di un sindaco come quello di bari del pd de caro che ho criticato gli ho fatto un mazzo così ieri a de caro perché faceva secondo me lo sceriffetto sapete come la penso io ma de caro che cosa fa mi manda un messaggio ieri dice caro porro io e te non siamo per niente d'accordo perché io non faccio altro che rispettare le le leggi le ordinanze e c'è un dialogo tra chi non la pensa uguale tra me e de caro c'è un dialogo io non sono certo un sinistro e de caro non è certo un destro come me ma riesce ad avere un comportamento con me normale in una democrazia normale i cretini fascistelli menano danno l'olio di ricino che non riescono manco a darlo poi si cagano sotto magari se si trovano davanti a due ragazzini quindi sti fascistelli purtroppo sono il problema che ci sono sia a destra sia a sinistra per carità petrucci non è l'unico ce ne sono tantissimi a sinistra che dicono che cosa stai dicendo però io vorrei avere ancora la libertà di dire quello che penso indipendentemente dai fascistelli che girano per il mondo in questo caso guardate io uso con grande attenzione la parola fascistello perché spesso sono comunisti questo è proprio un fascistello cioè non è un comunistello è un fascistello quindi chapeau a de caro che continua a dire che non è d'accordo con me e lo fa come si fa in un posto libero mentre ci sono quegli questi fascistelli che purtroppo vengono eletti ad abetone vorrei andare poi sulle altre questioni fondamentali del giornale unico del virus se me lo permette questo come si chiama questo petrucci se il sindaco della betone me lo permette vorrei raccontare cosa è successo sui giornali oggi cioè ieri conte che piace tanto ai fascistelli come petrucci fa la sua quindicesima conferenza stampa e tutti zitti e muti che lì che ascoltano e pendono delle sue labbra dove dice quello che già sapevamo ieri però il corriere della sera oggi su cosa titola il corriere della sera è stato il giornale dopo il fatto più contiano cioè mentre il fatto è un giornale molto volgare molto amico dei fascistelli come petrucci ovviamente il corriere della sera c'ha sempre l'applomb di essere il giornale della borghesia milanese che ne è compilato di tutti i colori ma comunque titola non si può riaprire l'italia e già ce lo sapevamo ovviamente anche la stampa titola su questo ovviamente la notizia di ieri per ogni persona normale c'è gente che va a fare la spesa senza il maggiordomo gente che va a lavorare senza l'autista persone che alzano come ho visto ieri sera un estetista la clera ogni mattina e che piangono perché quella loro negozio per cui pagano l'affitto non è utilizzabile gente che ha 40 persone a cui paga gli stipendi alla fine del mese e che non ha più fatturato insomma le persone normali non i giornalisti direttori del tempo ieri avevano un altro problema che il sito dell'inps è andato in bomba e soltanto repubblica devo dire rompe il fronte del giornale unico del virus in cui titola 600 euro attendere prego però su questo io vi voglio raccontare subito due cose incredibili la prima per esempio giannini oggi su repubblica fa un pezzo super condivisibile e dice una cosa dopo il blocco dell'inps ieri che riguarda 4 milioni e mezzo di partite iva e altre 10 milioni che vogliono avere indennità varie sono 14 milioni di persone che si devono rivolgere all'inps toc toc la stampa ha fatto sette righe sul blocco dell'inps a pagina 5 ognuno può ovviamente fare quello che vuole io lo trovo assolutamente legittimo ognuno c'è la sua nicchia di lettori ma attenzione a cari amici ma se voi fate sette righe a pagina 5 ci sono 15 milioni di persone che sono interessate solo a quello ovviamente no perché loro devono farmi tutta la pippa sull'europa sul non lo so io ognuno fa le sue scelte territoriali io la trovo incredibile eh la dico che la trovo incredibile ma comunque giannini oggi su repubblica cosa scrive nessuno né conte né tridico presidente dell'inps hanno avuto il buon senso di chiedere scusa massimo giannini ha ragione da vendere su repubblica massimo giannini che mi sembra forse un po più legato alla realtà dice ma ragazzi ma siete matti ma invece di fare tutto avete fatto questa conferenza stampa della madonna come tutte le sere cavolo uno che chieda scusa ai milioni di italiani che hanno provato a contattare ieri internet non si trova e quelli stanno a dire che io sono fascistello guarda scusatemi petrucci toc toc sindaco di abetone tu hai provato a collegarti all'inps ne hai parlato un po con i tuoi amici fascistelli poi fantastico perché c'è il corriere della sera intervista il direttore generale dell'inps peraltro scopro da altri giornali nominata da boeri neanche nominata da questi grillini ma è fantastico io vi dico la prima cosa noi la buona notizia scrive la direttrice generale dell'inps scrive che la buona notizia è che 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 per la cassa integrazione ordinaria la gran parte delle aziende anticiperanno i soldi ma voi avete capito cosa vuol dire questa cosa qua che io metto in cassa integrazione le persone non è che le metto in cassa integrazione perché sono cattivo ma perché non ho fatturato ebbene la buona notizia dice il direttore generale dell'inps che anticipare a queste persone i soldi che non gli dà l'inps gli vi daranno le imprese e le imprese cara direttore generale dell'inps come lo pagano dove la trovano la liquidità dove li trovano i soldi per pagare la cassa integrazione ordinaria ma io dico ma questi vivono in un altro mondo vive in un altro mondo oggi ce lo racconta devo dire che anche gramellini sul corriere della sera dice l'inps non riuscendo a trovare un responsabile del casino che è successo ne ha accusato gli hacker perché ieri hanno detto che c'erano anche gli hacker ma in realtà come si vede in un fogliettone della repubblica sti hacker non ci sono o come dice bene il fogliettone della repubblica sì sono anche arrivati dagli hacker ma non è certamente dovuto a loro il blocco ieri dell'inps perché in realtà guardate che gestire 14 milioni di persone non è facile a parte che facebook ne fa miliardi ma non lasciamo perdere questo ma il punto fondamentale è che lo sapevano tutti chiunque segue questa zuppa sa perfettamente quanto avevamo detto che era incasinata la situazione dell'inps io mi chiedo ma perché prima o poi qualcuno non vuole fare il mazzo politico a questi vertici dell'inps perché se ci fosse stato boeri ma che mazzo gli avremmo fatto boeri per una cosa di questo tipo e nel frattempo direttore del generale dell'inps dice beh perché ci hanno tagliato 250 milioni ah sì perché prima invece l'inps era una specie di macchina perfettamente funzionante incredibile questa roba dell'inps e su questo devo dire la verità che non è che vada molto meglio per quell'altra parte cioè quindi la cassa integrazione ordinaria non c'è problema perché l'anticipano gli imprenditori come se gli imprenditori oggi avessero i soldi che gli escono dalle orecchie e poi l'altra cosa fantastica è la convenzione fatta tra l'abi cioè le banche e le imprese che vogliono la cassa integrazione in deroga perché cosa succede quando io faccio la cassa integrazione io sono un baretto devo prima fare l'accordo col sindacato grazie poi dopo che ho fatto l'accordo sindacato devo mandare la notifica alla regione col bollo da 16 euro e la regione spero che non abbia la casella di posta elettronica come si dice occupata dopo che ho mandato questa roba qua e quindi c'è la possibilità di ottenere la cassa integrazione che è l'ottanta per cento del mio stipendio fino a 1400 euro mi sembra anzi meno bene io che cosa faccio io dipendente sono ancora messo là perché sapete dopo quanto paga la cassa integrazione in deroga sette mesi e io nel frattempo sette mesi come faccio la spesa allora hanno fatto un accordo con l'abi cioè le banche mi anticipano quello che mi darà l'inps ma come fanno ad anticiparlo caro patuelli toc toc presidente dell'abi che hai fatto tanto bene contro l'europa e che parli tanto bene e che siamo tutti i tuoi grandi fan però magari mi spieghi perché avete messo nella convenzione abi sulla cassa integrazione l'obbligatorietà di un conto corrente dedicato cioè il di l'operaio dovrebbe andare in banca ad aprire un nuovo conto corrente per farsi anticipare i soldi dell'inps vabbè questa cosa sembra superata caro presidente dell'abi perché è obbligatorio mandare una raccomandata con la ricevuta di ritorno secondo quello che leggo oggi repubblica per avvalorare tutta questa 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 operazione è una roba da matti toc toc conte oggi ho letto il pezzo di durigon sul giornale ex sottosegretario sapete cosa succede che la cassa integrazione dopo tutte queste procedure i 1400 euro 1200 euro se lo prende l'operaio e l'operaio personalmente garantisce la banca che se l'inps nei prossimi sette mesi non gli dà i soldi beh la banca se li può rivalere sul sull'operaio avete capito bene cioè la garanzia viene data in un caso dalle dalle viene viene data dai dipendenti cioè io mi prendo 1200 euro che mi spettano invece di prenderli fra sette mesi li prendo oggi se l'inps non paga per qualche motivo la banca cosa residuale ovviamente beh a pagare sarà l'operaio questi sono matti questi sono matti sono matti da legare sono morti di burocrazia e come dice il giornale pezzo fantastico governo disastro perché poi il giornale nota anche un'altra cosa fantastica e c'è che ieri sono riusciti a quelli dell'inps a mandare insieme anche i dati delle privacy quindi io mi collegavo al sito dell'inps e sapete che succedeva vedevo i numeri i dati l'indirizzo e l'email di un altro contribuente questi sono dovrebbero essere tutti quanti licenziati licenziati oppure multati come succede a noi se facciamo delle cose non sbagliate andiamo poi sulle dichiarazioni di conte su cui apre il corriere della sera il giornale unico del virus perché le conferenze stampa di conte ogni sera sono fondamentali e vi rendete conto che ieri sera abbiamo dovuto affrontare una conferenza stampa cari amici sapete su che cosa sull'interpretazione di una circolare del ministero degli interni sulla possibilità di uscire con dei bambini da casa questo è il tema l'italia muore di sanità l'italia muore di economia e non rendete neanche conto e voi vi occupate dei bambini e loro ad aria tra l'altro conte il presidente del consiglio deve dire ma sì certo un bambino se c'è la mamma che deve andare a fare la spesa se lo può portare e se ne avesse due che cosa fa col secondo bambino lo lascia a casa domande che si potrebbero fare un presidente del consiglio che dovrebbe occuparsi dell'economia e non di queste robe qua ma comunque i giornali si interrogano sui bambini ed è molto divertente il titolo del tempo i bambini valgono meno per questo governo dei cani perché sui cani si può fare la passeggiatina e con i bambini no va bene vi segnalo altre cosette interessanti il veneto vuol fare testa tutti per riaprire il veneto finalmente fa bene e quel fascistello del sindaco di abettone diego petrucci toc toc fascistello se zaia vuole riaprire il veneto non è che lo fa perché vuole uccidere i suoi cittadini ma perché vuole salvarli se vuol fare tamponi a tutti e capire quelli come me che non possono più prenderselo e possono andare a lavorare toc toc lo capisci fascistello che non conviene arrestare le persone perché questo fascistello ve l'ho già detto ha chiesto su il mio arresto in un paese serio me mi arresterebbero nel frattempo e l'altra cosa incredibile è che il ministro della innovazione qua abbiamo l'inps che non funziona che ci sono degli pseudo hacker c'è un ministro dell'innovazione e della pubblica innovazione digitale abbiamo l'agenzia per l'innovazione digitale abbiamo mille cazzi sapete che cosa ha fatto ha fatto otto gruppi di studio con 74 esperti per scegliere l'applicazione per tracciarci questi sono matti 74 esperti per scegliere l'applicazione ragazzi ma in che mondo viviamo ma avete capito che siamo morti e sepolti se dobbiamo fare 5 autocertificazioni una conferenza stampa del presidente del consiglio per i viaggi con le con i ragazzi con i bambini e poi dobbiamo fare 74 esperti per scegliere un'applicazione è una roba da non crederci io vi vorrei segnalare vi vorrei segnalare che mentre questi cazzoni ci governano per fortuna il sole 24 ore ci ricorda com'è la vita cioè ma come messo in pausa non mettiamo in pausa qua riconnessione in corso il sole 24 ore oggi ci racconta il disastro della ceramica noi avevamo un'eccellenza che sono le piastrelle abbiamo un distretto delle piastrelle abbiamo un'eccellenza nel fare la ceramica peraltro che sta scendendo perché sono arrivati i cinesi ma resiste beh che cosa hanno fatto questi geni nel dpcm in cui hanno chiuso l'italia mentre ci si occupano petrucci dei fascistelli come te beh in questa in questo dpcm sapete che è successo è successo che le piastrelle possono uscire dai depositi della filiera logistica ma non dai magazzini delle fabbriche cioè il dpcm permette che siano vendibili quelli che sono in magazzino per i terzisti ma non dalle fabbriche cioè questi sono matti cioè non solo hanno chiuso le fabbriche ma hanno chiuso i magazzini ma quali i magazzini quelli delle fabbriche non quelli dei terzisti è una roba per cui dice il sole 24 ore se ne sta approfittando l'export spagnolo allora quando si dice riaprire si dice che forse non conviene lo stipendiuccio di questo petrucci sindaco di abetone lo stipendio più serio di medici lo stipendio più serio di poliziotti e carabinieri se noi chiudiamo l'italia non lo paga la bce non lo pagano babbo natale tra l'altro oggi fantastica la lettera di ursula che scrive alla repubblica e dice vi chiedo scusa stiamo con voi poi dice ho in mente un euro un'europa fondata sulla solidarietà tutte palle tutte palle ursula è quella che parlò in italiano disse cose simili e poi disse no agli euro bond io non è che sono affascinato da queste obbligazioni europee si può trovare uno strumento ma voi vi fidate veramente di ursula io no nel frattempo ci sono forse alcune inclinature dice il sole il corriere della sera nel fronte rigorista olandese perché liberali e cristiani che fanno parte del governo rutte sarebbero in contrasto con la sua intransigenza nei confronti dell'italia intervista di casaleggio oggi il metra pensè del movimento 5 stelle che dice che in questa fase contro le organizzazioni politiche si devono organizzare online e io faccio due più due conte dice che scusatemi casaleggio dice che le organizzazioni politiche si devono organizzare online e poi pensi chi è l'unico politico che ha fatto 500.000 like in più sulla propria pagina facebook quindi una grande operazione di marketing online in queste ore conte perché ha fatto le sue dirette sull'online grazie alla genialata di casalino ermutanda e conte quindi ermutanda e conte hanno ben capito la regola di casaleggio che oggi dice sul corriere della sera e cioè organizzazioni politiche si devono organizzare online quello che sta esattamente facendo conte pensando giustamente al suo futuro politico nel frattempo questa storia delle mascherine è ridicola hanno mandato delle mascherine quelli delle protezioni civile all'ordine dei medici e l'ordine dei medici ha poi ricevuto un'altra nota delle di quelli delle mascherine e delle delle protezioni civile dicendo che non andavano bene che non bisognava usarle beh in questo casino che sta facendo roma in questo casino che fa la protezione civile in questo borrelli che chiede scusa per queste robe e lui a differenza di altri lo fa sapete che succede che oggi leggo sulla stampa il vice segretario del pd orlando e sulla stampa il vice segretario pd orlando cosa ci dice ci dice che dopo la crisi la prima riforma sarà quella di statalizzare di riportare a roma il il la sanità cioè qua vogliono riportare a roma la sanità dopo tutte le centralizzate l'inps che funziona di cioè tra l'altro lo fa sul giornale che non cita in prima pagina il caso inps cioè sulla stampa c'è orlando rendiamo tutto romano lo fa sul giornale che non parla del gran casino inps coi che ieri ha convolto milioni di italiani è una roba da non credersi nel frattempo giustamente giallino della frattina nota sul giornale come a parte lo sciagurato fatto quotidiano che ha fatto ieri il titolo sull'ospedale della fiera di milano mentre muore ancora gente dice mercanti in fiera prendendo in giro le persone che hanno reso possibile quell'ospedale insomma ci si dice perché il corriere della sera il giornale di milano oggi non parla mai non ha mai parlato di questo ospedale che è stato realizzato a milano da milanesi da famiglie milanesi con una forza e un'intraprendenza che nessun altro ha mai avuto e con uno stile quello sì davvero cinese nel senso che sono riuscito a farlo in dieci giorni perché non ne parla perché il giornale più contiano d'italia cioè il corriere della sera non può riconoscere alle regioni la loro capacità di fare mettete insieme quindi questa specie di giornale unico del virus in cui conte è il maestro delle cerimonie in cui tutto quello che fanno le regioni fa schifo e quindi è evidente che il corriere della sera dice giornino della frattina non celebra una grande eccellenza di milano che è stata quella dell'ospedale vi do appuntamento sul sito nicolaporro.it chiunque mi voglia arrestare si rivolga al sindaco di fratelli d'italia di abetone che oggi ha chiesto su facebook ha fatto un meme porro andrebbe arrestato grazie ai fascistelli che mi permettono di fare questa rassegna stampa perché oggi grazie al cielo governano da betone e spero che non governeranno mai l'italia ciao